Procede la raccolta fondi su buonacausa.org per la piccola Miriam, una bimba di 6 anni di cavalli tirreni che dovrà sostenere un terzo intervento al cuore presso l'Ars Center di Boston a causa di una cardiopatia congenita complessa. Un intervento che potrebbe essere risolutivo per la bambina, evitando quindi di subire interventi periodici. Purtroppo è alta la cifra da raggiungere, 120 mila dollari, ma i genitori della piccola non demordono. La senosi sottopolmonare fu trattata e ci fu detto che la bambina sarebbe dovuta stare bene, insomma fare solo i controlli periodici e era tutto risolto. E invece con l'andare del tempo, dopo un anno, un anno e mezzo, ci si è accorti che queste senosi si erano ripresentate, sia la sottoaortica che la sottopolmonare, quindi recidive. A tre anni è stata rioperata subito e decidemmo di farla operare poi al gaslini di Genova. Tutti i medici lì, i cardiochirurghi e i cardiologi, ci hanno detto che poteva succedere una casistica del 20% di recidive, ma che stavolta, insomma, la cosa sarebbe stata risolta. Invece non è stato ancora così perché Miriam si ritrova con una terza recidiva della sottopolmonare, al ventricolo destro. E i medici, insomma, ci hanno detto che Miriam è un caso molto particolare. Intanto, prima di arrivare al terzo intervento, abbiamo contattato l'ospedale di Boston, Boston Children's Hospital, che ci ha proposto di visitare la bimba. Siamo andati e, con nostra meraviglia, visto che i medici qui ci hanno detto che purtroppo non c'era altro da fare, ci hanno proposto una procedura, diciamo, in aggiunta a quella precedente. Si va a fare una protezione al ventricolo destro. Ci è stato detto anche che se non si farà questo intervento a breve, il suo ventricolo destro diventerà fibrotico e da lì, insomma, ci saranno danni riparabili, al quale, insomma, non ci si può più tornare indietro. Quindi noi siamo ritornati in Italia con questa chance in più, diciamo, per nostra figlia, che anche per loro a Boston hanno detto che è un caso, ne abbiamo avuti pochi. Li abbiamo trattati, li abbiamo trattati con questa ulteriore procedura e abbiamo avuto ottimi risultati, con un tasso di recidiva poi successiva quasi pare allo zero. Noi ora ci fidiamo di chi ci ha dato una possibilità in più rispetto a chi non ci ha mai proposto questa procedura e penso che possiamo fidarci completamente da mani, insomma, esperte che ci hanno detto che hanno fatto questo intervento e per noi è importantissimo. Noi ci rivolgiamo a tutti perché adoriamo nostra figlia e speriamo che chi nel suo piccolo, chi dandoci una grande mano, possa darci questa possibilità e far trovare finalmente un po' di serenità a nostra figlia, aiutarla a diventare grande. La sofferenza in questi ospedali è tanta, ci sono tante storie, niente, vi chiediamo una mano.